Cari quadisti ed eccoci i due grandi amici Ben Hortzman e Giuliano Cozzi praticamente abbiamo rotto le balle ma ben ti tocca grande gara dei vostri due piloti, allora come è stata? passione nei box, cuore, batti cuore, mille batti cuore infarto, le moto hanno retto, grandissima competizione rilanciate la sfida per gara 2? vediamo, sono loro gara a rilanciare grande ragazzi complimenti ancora per il risultato grazie